eccoci qua calcio mercato beach nuovo episodio un'estate al mare voglia di calcio mercato ciao a tutti benvenuti questo nuovo episodio di calcio mercato beach vi avevo chiesto 50 like nell'altro video per fare un nuovo episodio oppure tanti iscritti i 50 like sono arrivati sono arrivati solo 38 ma qualche iscritto è arrivato e quindi dopo tre giorni che continuate a ignorare quel video lì eccomi qua lo faccio lo stesso e vediamo se stavolta fatti bravi come avete fatto nell'episodio precedente che siete stati bravissimi avete superato i 50 like gli iscritti tutto bello quindi anche in questo episodio se ne volete un altro 50 like o almeno 10 iscritti quindi ci vedete voi se riusciamo a fare i 693 iscritti benissimo lo faccio entro sera io oggi sono a casa quindi posso fare anche 4 video se voi siete velocissimi e bravissimi come un mio noto collega anch'io oggi sono free quindi noto collega youtuber quindi ecco le ultimissime di mercato ultimissime proprio esclusive quindi guardatelo subito sto video perché se lo guardate domani non sono più esclusive non sono più ultimissime come sempre appunto vi invito a iscriverti alla campanile a mettere mi piace commentare rispondo a tutti andiamo con ordine vi dico tantissime cose quindi devo essere un po' più stretto allora ragazzi partiamo dall'Atalanta ne dico una adesso e una alla fine così gli Atalantini non staccano subito che fanno sempre i furbi eh 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 amici Atalantini allora la Dea sembra puntare forte forte su Illich ci sarà un incontro tra D'Amico e Setti o comunque Telefonico in questa settimana l'Atalanta pare aver superato la concorrenza della Lazio perché perché comunque la il giocatore Illich appunto avrebbe trovato l'accordo con la Lazio ma non la Lazio col Verona per il cartellino si parla di 18 milioni di euro cifra importante il giocatore a me piace quindi sarei contento se la Dea se lo portasse a casa sono onesto poi oggi Chiellini ha annunciato il suo passaggio ai Los Angeles FC ci sapeva già da tempo però oggi ha dato proprio le le dichiarazioni a riguardo che gli serviva un'esperienza all'estero eccetera 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 poi comunque tornerò per la di Atalanta alla fine lo ripeto eh Matti c'è atterrato a Ciampino oggi farà le visite mediche probabilmente se eh tutto va bene ci sarà anche la firma nero su bianco se non oggi al massimo domani qui era cascato il telefono il nuovo innesto della della Roma per la Roma appunto per Mourinho è in direttura proprio d'arrivo Pogba la Juve sembra praticamente fatta mancano alcuni dettagli su commissioni per la gente su sponsor e cose simili firmerà un quadriennale a otto milioni a stagione e l'annuncio comunque arriverà appunto a luglio Napoli Napoli i ragazzi Napoli è in sommossa popolare perché sembra che anche Fabian Ruiz possa andare via possa fare la fine di aiutatemi aiutatemi quello che è andato a Massiglia aiutatemi aiutatemi non mi viene in mente porca miseria di Milik porca miseria Milik e quindi rimanere un po' da separato in casa per un anno eh io non so cosa dirvi amici napoletani perché davvero io dell'Aurentis non riesco proprio non ha una giustificazione quest'uomo e quindi non so cosa dirvi eh lui però eh pare che voglia riaprire ad ogni costo il discorso Coulibaly per il rinnovo Coulibaly che però è tentato dal Barcellona Coulibaly che è un po' seccato per questo Andri Vieni rimandare non essere chiare appunto del presidente quindi non lo so ragazzi staremo a vedere se Coulibaly rimarrà Napoli andrà alla Juve eh resterà in Italia andrà a Barcellona lo scopriremo solo i prossimi giorni ehm poi 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 aspettate che adesso vi dico due robe ah la la Fiorentina pare che per Dodo sia praticamente fatta Dodo Dodo non so come 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 chiamarlo e poi ragazzi la 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 bomba del giorno è assenzio assenzio che può diventare un'occasione per il Milan anche la Juve sul giocatore la Juve a sentire le voci è su tutti è su tutti però ad ora a parte Pogba che sembra praticamente ufficiale non vedo tutte ste 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 bombe eh di mercato a voce ma a fatti non non mi pare che si stiano rivelando quindi staremo a vederlo eh il Real Madrid ovviamente non vuole staremo a vederlo staremo a vedere eh ovviamente il Real non vuole perdere il giocatore a zero la cifra sui 30 35 milioni per un giocatore come assenzio quasi quasi fossi l'Atalanta ci penserei seriamente ehm altra news praticamente il Milan pare pare che voglia arrivare ai 40 milioni di euro per De Ketteler eh quindi De Ketteler lo vedo sempre più vicino alla sponda rosso nera io l'avevo detto agli atalantini in questi vari video di non illudersi perché comunque secondo me alla fine andava al Milan per ovvie ragioni Champions League eh ha vinto lo scudetto il blasone purtroppo è più importante del nostro e quindi temo che il bombing di messaggi non sia servito niente se oggi bombing si usa e basta e altra cosa ragazzi altra cosa appunto eh sempre per il Milan pare che voglia prendere anche Long Long sempre del Bruges altri 20 milioni di euro anche per questo giocatore qui eh quindi insomma direi che il Milan il cash quest'anno ce l'ha e il Milan giustamente lo vuole lo vuole prendere insomma li vuole prendere entrambi eh Mattia Selivera pare che l'infortunio non sia così grave sempre tornando al Napoli eh un buon arrivo buon ritorno al Palermo che è arrivato in Serie B è tornato in Serie B complimenti ragazzi complimenti al Palermo ieri 34.000 persone sugli spalti in Serie C ragazzi questo è un pubblico che merita merita la Serie B quantomeno la Serie B basta direi che altre a 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 no ne mancano due allora Skrignar è vicino al PSG pare che pare che questa si possa concludere ragazzi quindi Skrignar al PSG è più di una semplice voce anzi è quasi una certezza mi spiace per gli interisti ma quasi sembra quasi fatta Inter che vira su Bellanova oggi non ne becco uno su Bellanova del Cagliari e e niente ragazzi per l'Atalanta per l'Atalanta l'ultima news è quella comunque che non è ultima di Suarez di Suarez che ragazzi è una semplice chiacchia perché Suarez prende 14 milioni di ingaggio anche se se lo dimezzasse a 7 è una cifra che per la Dea è completamente fuori portata è il doppio del monte stipendi che hanno adesso massimale per i giocatori quindi temo che rimarrà una pura fantasia come poi avevamo praticamente già detto tutti che non era concretizzata poi se io vengo smentito io e tanti altri sono felicissimo felicissimo però anche col carattere di Suarez vederlo con Gasperini vorrei vedere anche quanto durano quei due senza mettersi le mani addosso scherzi a parte niente ragazzi quindi qui si chiude il mercato di oggi solo se voi non farete i bravi perché se voi farete i bravi ci sarà un altro video subito appena lo aggiungiamo o i 10 iscritti o i 50 mi piace quindi non vi costa nulla iscriversi è gratuito invitati amici parenti fidanzate morose tutto quello che volete io aspetto 50 like 10 iscritti e c'è un nuovo episodio quando volete come volete da mezzanotte in poi no perché alle 5 mi alzo per andare a lavorare domani quindi fatemelo fare prima delle 8 9 di sera va bene ci vediamo dopo spero di cuore oppure alla prossima puntata fate i bravi tocca tutto dipende tutto da voi madonna oggi sono veramente dislessico buona buona giornata